Dylan Dog Color Fest numero 43, Utopia Modulare, una storia inedita e completa di Roberto Recchioni e Dario Sicchio. Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog e nella rubrica Fumetti, ovviamente. Continuiamo a parlare di Bonelli, continuiamo a parlare di Dylan Dog, nello specifico nella serie Color Fest, serie che finora è stata quella più sperimentale a detta di tutti, ma principalmente, come il titolo stesso dice, si distingue dalle altre due testate regolari, cioè la serie regolare medesima e l'Old Boy, per il fatto che questa serie è a colori. Lo dico perché pare che da adesso in poi, pare che dal trittico, dalla trilogia che comincerà sulla serie regolare del numero 435, le cose per Dylan Dog si rimescoleranno ancora, torneranno, a quanto pare, a essere quelle dello status quo pre-meteora. Non c'è questa grossa differenza, però, diciamo, il timore di tutti è che questa sperimentazione degli ultimi anni sia stata inutile solo perché si ritorna alle origini, quando in realtà non necessariamente. Ma perché lo dico nel Color Fest? Perché anche il Color Fest fa parte, in qualche senso, di questo rilancio per ritornare allo status quo precedente. E onestamente avevo un po' timore di leggere questo Color Fest perché, appunto, temevo che non mi capacitavo di come un numero, che fondamentalmente è un fuori serie, potesse in qualche modo legare perfettamente l'inizio di questa trilogia che riportava tutto allo stato originale senza essere una specie di manuale per addetti ai lavori, anche perché la copertina sembra proprio un manuale. E quindi mi spaventava molto l'idea di leggere una storia puramente tecnica che rischiava, appunto, di farci capire cosa sarebbe successo nei numeri della serie regolare. E invece devo dire, con mio sommo stupore, che questa è una delle storie più belle che abbia letto negli ultimi mesi, quantomeno. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno delle altre versioni di se stesso nel multiverso e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e cosa vi aspettate dal rilancio della serie regolare e in generale dal rilancio del personaggio di Landog. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok, anche se ultimamente lo so, l'ho un po' lasciato perdere, ma voi seguitemi che poi io ritorno. Lo avevamo già visto dalle anticipazioni sui social, lo si poteva intuire dalla prima splash page presentata, se non sbaglio, da Recchioni stesso. Questo numero è fondamentalmente ambientato in quello che è una parodia dell'IKEA. Ovviamente non si può dire IKEA e quindi si è ideato, IDEAK, un prodotto originale come Popolino o Zio Caperone, come direbbe Shelley Bobbins. Ma al di là della facile ironia sul nome che appunto viene giustamente, lievemente modificato, ma perché poi andremo a scoprire che non è esattamente l'IKEA o quantomeno non a livello di immagine, IDEAK non può certo mescolarsi con l'IKEA. Fondamentalmente questa è tutta una metafora scritta molto molto bene, che omaggia tantissimo, molti punti della vita di Dylan Dogg, sull'ordine, sulla precisione, sulla monotonia, sul fatto che vada sempre tutto bene, va talmente tutto bene, che Dylan è questo strano indagatore dell'incubo che fondamentalmente i casi più gravi che risolve all'inizio della storia non rasentano nemmeno le preoccupazioni di un vigile urbano. Cioè lui va a dissotterrare una vite. presente le famose viti dell'IKEA che avanzano, uno dei primi casi che vediamo in questa storia è Dylan che scopre che una di queste persone, questi clienti dell'IDEAK ha sepolto una vite perché avanzava. Ecco, questo più o meno è il livello e non va fatto ovviamente, non va fatto, va messa al suo posto perché ogni cosa ha al suo posto. Questo per darvi l'idea di quanto sia distopica la realtà in cui questo Dylan vive. Ci sono anche un paio di scene in cui si esce dalla tavola e Dylan viene disegnato, come è successo appunto nel numero 400, ma come è successo anche persino in Morgana senza andare a tirar fuori numeri recenti che a molte persone non sono piaciute. Ma nello storico Morgana, amato da tutti, c'era già questa cosa, c'era la mano di Stano in questo caso che usciva dal racconto, usciva dal fumetto per mostrare che lo stava disegnando, che lo stava raccontando. Qua c'è una citazione a questa cosa ma in realtà se vedete c'è lo smalto e è semplicemente un cambio di scena della bella di turno che si chiama Mina, se non sbaglio, che stava disegnando un progetto IDEAC perché tutta questa realtà, tutta questa comunità ruota attorno appunto a IDEAC. Quindi notiamo come Dylan non sta nemmeno abitando a Londra, sta abitando in queste specie di isole felici, tutte circolari, tutte che girano attorno a un negozio IDEAC, tutti mangiano le polpette dell'IDEAC, tutti lavorano per l'IDEAC, la ragazza di Dylan, Mina appunto sta passando quello che fondamentalmente potrebbe essere un architetto di interni, di mobili e leggermente di recente è stata promossa. Dylan stesso che dovrebbe essere vegetariano in realtà mangia tranquillamente le polpette dell'IDEAC, scopriamo solo a metà che chiede a Graucio di ordinare una variante, una variante vegetariana delle polpette, giusto per cambiare un po' gusto perché stanno mangiando sempre le stesse cose. Tra l'altro prima di andare avanti nel racconto, nella storia, ci tengo a far notare, approfittando del fatto che siamo nel Colorfest, di come ci mostrano l'armadio di Dylan che è sì monotono perché vive in questa realtà, in questa utopia modulare dell'IDEAC dove tutte le cose sono uguali ma anche perché Dylan è obiettivamente sempre vestito uguale e vediamo che nel suo armadio ci sono solo camicie rosse o camicie bianche per citare i primi numeri dove a volte indossava le camicie bianche. E cito anche tra i vari casi che Dylan Dogg prende in una sola mattinata e risolve in una sola mattinata, vista la difficoltà dei casi che vi ho detto prima, c'è anche quella che è chiaramente la presenza di Roberto Recchioni stesso che tra i vari clienti è quello che annuncia appunto l'arrivo di una meteora, quindi si può intuire sia dalla fisicità dell'autore ma anche dal fatto che lui tra i vari clienti è quello che appunto nomina la famosa meteora che è stata, come si dice, è stata ideata da lui stesso e poi vedremo anche perché c'è qualcun altro a livello narrativo che è stato fautore di tutto questo che è un'altra creatura di Recchioni che vediamo alla fine. Tra i vari incubi di queste realtà così perfette, così monotone, così sicure c'è l'incubo che questa realtà venga portata via, che la nostra sicurezza, che il nostro benessere venga minacciato. Minacciato da chi? Minacciato da qualcuno da fuori, da qualcuno che è diverso. Qua c'è anche una lieve metafora sulla realtà odierna nostra occidentale che abbiamo tutti i pregi, tutte le comodità, ma comunque ci sentiamo minacciati da persone che vengono da fuori e vengono a rubare il lavoro, a rubare la nostra vita, la nostra identità, le nostre tradizioni e vengono da fuori e noi ci sentiamo in dovere di proteggerci come appunto questo cliente di Dilan Dog che sente il bisogno di avere una pistola. È già tanto che Dilan si ricordi che cos'è una pistola, ma sa solo che Ideac non le produce. Può eventualmente consigliargli dei trapani, degli avvitatori, ma non esistono pistole all'interno di Ideac. E questo cliente inizia a sentire il bisogno di qualcosa, di qualcosa fuori da Ideac che non è preciso, non è perfetto, non ha un suo posto all'interno di Ideac. E iniziano ad arrivare degli strani pacchi da una società che si chiama Valkyrie Express, con un logo, quello dell'arcobaleno, che poi scopriamo alla fine perché c'è l'arcobaleno e si chiamano Valkyrie Express, c'è un'altra fantastica citazione alla mitologia norrena, e scopriamo come questa Valkyrie Express porti da fuori dei pacchi che contengono tutto quello che uno desidera. Anche qui c'è una vaghissima metafora a quello che è il commercio moderno, l'industrializzazione moderna, come si dice, rappresentata da due grossi fattori. Uno è il centro come l'IKEA, il grosso centro come l'IKEA dove si fa tutto all'interno, e l'altro è appunto la consegna a casa che è dettata da Amazon in questo caso, ma in generale tutta questa consegna a domicilio che è sempre esistita, poi con internet è aumentata ed ora, dopo la pandemia, ha raggiunto il doppio dei livelli di vendita di prima perché la gente non poteva uscire di casa e quindi effettivamente c'è questa concorrenza tra chi porta le cose da fuori e chi vive sereno all'interno nella propria utopia. Min, la ragazza di Dylan Dog, per esempio, riceve uno specchio, uno specchio e in questo specchio si vede diversa, si vede quasi trasformare in una creatura di fango, come poi vedremo più avanti, come ha i suoi incubi già a volte anche a occhi aperti, la inseguono, ci sono delle creature di fango nei suoi incubi che la inseguono, ci sono delle creature nello specchio e lei, non so se per questa ragione o per altre, lei cambia. È come se non fosse più la stessa mina, come se fosse un'altra mina, la vediamo a un certo punto che semplicemente si fa una tinta e sembra molto più sicura di sé e non nomina più quello che è successo nello specchio, ma è come se fosse un'altra persona fondamentalmente, un'altra variante di se stessa. La cosa assurda è che se mentre la prima parte in cui mina cambia aspetto e dice che è andata dal parrucchiere viene spiegata, a un certo punto, pagina 50, invece mina cambia di nuovo aspetto, improvvisamente inizia a fumare, non l'ha mai fatto prima, ha un piercing qua tra gli occhi e ha i capelli rossi, quindi ha cambiato ancora colore di capelli, ha cambiato anche taglio di capelli e i casi all'interno di queste città iniziano a diventare davvero scabrosi. La gente appunto finalmente arriva una pistola a casa di questo cliente di Dylan Dog che la desiderava tanto, il cliente che la desiderava tanto e voleva proteggere questa utopia dalle minacce che potevano accadere e dopo averci pensato un secondo capisce che la minaccia più grave è una persona come lui e si spara in bocca. Non è una cosa da poco questa piccola sottotrama di questo cliente, poi vediamo altri clienti che iniziano a ricevere appunto taglierbe, motoseghe, asce per tagliare, per migliorare il giardino finché non iniziano ad ammazzarsi con queste armi. Scopriamo che anche Dylan non è immune a questo desiderio di qualcosa di più, scopriamo che tra i vari casi di cui si sta occupando c'è persino la scomparsa stessa di Mina, la denuncia della scomparsa di Mina ad opera di Dylan stesso, ma Dylan non si ricorda di averne denunciato la scomparsa. E quando arriva a casa e controlla la casa di Mina scopre che lo specchio è rotto e che nel riflesso di Dylan Dog ci sono tantissime varianti di Dylan, c'è anche il Dylan con la barba post-meteora. Ed è per questo che qua si inizia a capire qualcosa su come narrativamente potrà essere spiegato il ritorno alle origini di quello che è il Dylan pre-meteora, come se qualcosa venga sistemato proprio all'interno della narrazione ad opera di qualcosa di sovrannaturale. Adesso lo vediamo. Un ultimo appunto su quello che stavo dicendo sul desiderio di Dylan Dog che va oltre i prodotti Ideac, vediamo che lui compone anche qua un galeone esattamente come fa il Dylan che conosciamo sempre, ma che poi è lo stesso, è semplicemente stato rapito in un certo senso da Ideac e ci sono solo quattro pezzi. Lui in casa ha un sacco di galeoni che compone facilmente, ma non è soddisfatto e finalmente dalla Valkyrie Express gli arriva un galeone da mille pezzi. È bello vedere graficamente le due versioni della splash page di Ideac all'inizio quando va tutto bene, tutto monotono e quando inizia a regnare il caos. Esattamente come uno dei clienti, che è quello interpretato da Recchioni, dice apparentemente a caso che regni il caos, ecco che scopriamo chi c'è dietro a tutto questo. Innanzitutto scopriamo che chi sgarra a Ideac si va a occupare della fabbricazione dei mobili in questo strano sotterraneo, in queste strane segrete dove c'è questo albero della vita che è fatto di un legno stranissimo, che produce delle spore, che si attaccano alle persone che diventano resinose, diventano appunto come fatte di resino, un po' come gli incubi che vedeva Mina all'inizio. E scopriamo che dietro a tutto questo, dietro a tutta questa produzione, c'è niente po' po' di meno che John Ghost. È lui, il serpente bianco, l'Elon Musk dell'universo di Laniato, che sta dietro a tutto questo. Ora, John Ghost sa perfettamente cosa è successo a Dylan. John Ghost, esattamente come le altre creature sovrannaturali, anche se non si è mai capito che poteri abbia John Ghost, ma chiaramente è qualcosa di più di un umano, è come se anche lui, dato che lo sappiamo è la controparte malvagia di Dylan Dogg, ha una sorta di quinto senso e senso e mezzo, di conseguenza riesce ad andare oltre la realtà classica. Si scopre che John Ghost ha acquistato Idea e l'ha trasformato, trasformata questa realtà, questa azienda, in qualcosa di più profondo, in un progetto appunto utopico, perfetto, però scopre che la perfezione non esiste, che l'umano cercherà sempre qualcosa di più ed è per questo che la concorrenza che appunto la Valkyrie Express, che usa il Bifrost, ovvero il ponte dell'arcobaleno, e da qui la mitologia norrena e la citazione all'arcobaleno sul pacco, che è appunto il ponte interdimensionale che fa viaggiare gli asgardiani in qualunque realtà. È lo stesso ponte dell'arcobaleno che mi faceva supporre che già in Thor 1 Asgard fosse un mondo in un altro universo, poi l'hanno reso un pianeta, ma inizialmente poteva essere tranquillamente un'altra dimensione che si poteva, che poteva raggiungere le altre grazie al Bifrost. In questo caso scopriamo appunto che la Valkyrie Express arriva con il Bifrost, quindi arriva da un'altra dimensione ed è probabilmente, è grazie a questa spiegazione dei viaggi interdimensionali anche da parte di John Ghost, che Dylan tornerà a essere il Dylan di sempre. John Ghost rivela che in questa... quando lui l'ha messo in questa realtà, in questa utopia modulare che è IDEAK, non si aspettava che Dylan rifacesse lo stesso percorso. Ma poi ha iniziato invece a fare le stesse cose che faceva... o meglio, poi ha iniziato a fare dei lavori che lo hanno portato sempre di più a essere l'indagatore dell'incubo di sempre. Prima si è arruolato in polizia, poi ha fatto il becchino e poi è diventato un indagatore dell'incubo. Questo è chiaramente il riassunto di quello che è successo tra il numero 399 e il numero 406, ovvero durante la saga 666. Fondamentalmente John Ghost ci sta spiegando che questo numero che noi abbiamo letto sotto l'ottica di IDEAK non è altro che una vita di Dylan Dogg che è stata... che John Ghost ha cercato di resettare e che fondamentalmente è quella che noi abbiamo vissuto come la fase 666, come quello che è successo dopo la meteora. Ma qua va tutto a scatafascio e quindi molto probabilmente John Ghost riporterà tutto alla realtà, tutto alla realtà precedente alla meteora in qualche modo, dato che ora ha il potere di chiaramente di gestire le realtà in qualche modo. Lo vediamo nel finale, per esempio, che Dylan si sveglia da un incubo esattamente come è capitato nel Dylan Dogg numero 1, per citare un altro numero di Dylan Dogg, dove tutto quello che abbiamo letto pare essere un incubo e dove lui vede fondamentalmente la Valkyrie Express, che porta un catalogo dell'IDEAK, dove fondamentalmente a livello pubblicitario ci sono dentro le stesse cose che abbiamo visto prima, perché anche tutto quello che diceva Dylan e tutto quello che dicevano i clienti a Dylan all'inizio della storia sembrava un dannatissimo spot pubblicitario e così è. Quindi ci mostrano come la versione IDEAK di Dylan sia una delle tante versioni di Dylan Dogg, alla fine ce n'è un altro e probabilmente tutto andrà a risistemarsi e noi ritorneremo a leggere il Dylan Premeteora una volta finita la trilogia dal 435 al 437. Quindi devo dire che io con questo numero sono rimasto più che soddisfatto da come verrà introdotto questo ritorno alla normalità, poi cosa sarà effettivamente questo ritorno non lo so, cosa cambierà effettivamente non lo so, a me tange poco, però è sicuramente un tentativo anche per accontentare quello zoccolo duro di fan che si lamentava per quei pochissimi cambiamenti che c'erano a livello narrativo, ma sotto sotto fondamentalmente magari manco sapendolo si lamentava delle storie di come erano fatte, di quello che parlavano e di come non erano più le storie di una volta. Ora vediamo se Labonelli riesce a dare a queste persone quello che vogliono, ammesso che lo sappiano, che se ne rendano davvero conto, accontentando anche i nuovi fan, perché comunque Dylan deve guardare al presente e deve guardare anche al futuro, perché non è Tex che è cristallizzato nella sua utopia modulare, ma va avanti e si evolve. Quindi vediamo se questa volta riusciranno ad accontentare, se non dico tutti, la maggior parte dei fan e rilanciare davvero Dylan Dog, se volete un pronostico, secondo me no, perché non vedo un piano a lungo termine, non vedo la creazione di una lunga saga, di una lunga run che possa portare Dylan Dog da qualche parte. Vedo semplicemente un continuo rimescolare il minestrone per riproporcelo con qualche ingrediente nuovo, qualche ingrediente vecchio, ma non credo veramente che ancora sappiano cosa fare con Dylan Dog. Se mai lo sapranno, dovranno impegnarsi molto molto di più per gestire questo personaggione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'embuto vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo video.